Ciao a tutti, dopo la marmalade di Anko, oggi prepariamo il dorayaki. Per preparare queste pancacce spettacolari, necessarremo solo due uova, 100 grammi di zucchero, 150 grammi di olio la pote. Ora ripetiamo gli uova con il zucchero, aggiungiamo l'acqua e in fine aggiungiamo la con il zucchero, aggiungiamo il zucchero e aggiungiamo il zucchero e aggiungiamo il zucchero. Alla prossima! ora con una spoon dovremmo frizzare le nostre piccole pancane Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, in the video of the Anko, they are spettacola. If you don't want to make the Anko, you can use the Nutella or other marmalade. So, guys, see you next time. Remember to subscribe to the channel, to leave me a like, and to watch the other video. Bye-bye.